Ora si registrerà la conferenza. Buona giornata a tutti, buona domenica e benvenuti a questo nuovo video tutorial dedicato ai mercati finanziari. Come sempre si apre su un'immagine che è in quel di Milano, dove c'è una... A Milano il gioco delle carte e in particolare quelle dei tarocchi era molto molto diffuso ancora prima del rinascimento, per capirci. Siamo a pieno umanesimo. E questa è un'immagine in una villa di Milano dove ci sono delle persone che stanno giocando a carte e le carte, come si sa, vengono distribuite al destino. Poi, come sempre accade, insomma, alla fine sono gli uomini che si giocano la partita e se la possono giocare bene o male. Mi ricollego a questo, facendo un discorso che non ha alcun riferimento con i mercati finanziari, ma che potrebbe essere utile dal punto di vista proprio delle informazioni di servizio per tutti, perché oggi siamo ormai alla prima giornata del campionato di Serie A. Lo so che sembra ridicolo che si cominci da qui, ma vi segnalo il fatto che il sottoscritto ieri ha inviato una lettera di segnalazione, di disservizio alla Gcom per segnalare quanto è accaduto con Dazon, che è praticamente la società che trasmette le partite di Serie A. non vi sto a tediare, sappiate che eventualmente comunque troverete il link più sotto dove poter eventualmente leggere quello che io ho scritto alla Gcom, segnalando il fatto che praticamente Dazon ha non solo interrotto il servizio a sua discrezione e senza fornirmi alcuna comunicazione in merito, ma soprattutto mi ha debitato dei costi che non doveva addebitarmi e siccome so per certo che non è questione soltanto del sottoscritto, ma di molti, ve lo segnalo perché è giusto che ognuno faccia valere i propri diritti e quindi si giochi la partita in prima persona, anche se il destino ci dà delle carte avverse. Ora, adesso veniamo ai mercati perché si tratta di capire se le carte che sono state distribuite negli ultimi giorni sono veramente avverse oppure no, perché questa è la domanda che probabilmente alleggia un po' ovunque. Come sempre noi partiamo per questo video tutorial da Codice Rosso, Codice Rosso che non è pubblicato ma praticamente tutti possono accedere lo stesso attraverso questo video perché questo non è altro che quello che si sarebbe visto attraverso il report e vedete che in realtà, qui fate attenzione, stiamo giocando sul lungo periodo, non sul breve, brevissimo, quindi questa è un'indicazione di lungo periodo per gli investitori, per capirci, non è che Codice Rosso non si propone di fare del trading, serve a segnalare dei pericoli che sono pericoli per gli investitori, quindi pericoli di lungo periodo, vedete che però sui mercati propriamente occidentali pericoli particolari non ce ne sono, restano sempre molto evidenti i pericoli sull'azionario Asia, Africa e Brick in particolare, ma questi sono pericoli che già si conoscerono, adesso si sono probabilmente accentuati, ma di fatto non rappresentano novità e gli stessi mercati emergenti, ma quelli veri, emergenti, quelli detti di frontiera, pericoli non ne segnalano, quindi è un mondo tra virgolette diviso in due, da una parte ci sono gli occidentali, dall'altra ci sono i non occidentali e i mercati di frontiera, che però sono sostenuti quasi esclusivamente dagli occidentali, cioè fondamentalmente sono le grandi case, le grandi banche che hanno prodotto diversi prodotti tra virgolette su questi mercati di frontiera e che li sostengono proponendoli come mercati che nel lungo periodo possono ottenere risultati, poi evidentemente bisognerebbe andare a sfrugliare su ogni mercato di frontiera perché ognuno fa la storia a sé, ma nel loro insieme, nel loro insieme, in ogni caso, indubbiamente in questo momento, pericoli non ve ne sono, così come un po' meno appaiono invece i pericoli sul mercato pregazionario, cioè mettere i mercati occidentali, in particolare, si pensava a quello americano, sarebbero entrati in grave difficoltà non appena la Fed avesse diffuso delle veline in cui segnalava il pericolo di un aumento di riflazione, tutto questo apparentemente, perlomeno dal punto di vista statale, non si vede, non si vede nemmeno sui corporate bond americani, per capirci, mentre invece appare evidente il pericolo sull'obbligazione degli emergenti, cioè in pratica qui viene fatto il contrario di quello che viene fatto sui mercati azionari, dove gli emergenti di frontiera sono sostanzialmente favoriti dagli occidentali, e qui in questo caso gli occidentali portano l'acqua al proprio molino, dicendo che sono gli obbligazioni emergenti che sono tante difficoltà, poi è chiaro che gli obbligazioni emergenti in cui si fa qui riferimento sono molto probabilmente tutte obbligazioni che appartengono all'area asiatica, piuttosto che cinese, piuttosto che del BRIC. In ogni caso, questo è quanto, qualcosa in termini di incertezza si può leggere sui corporate europei, ma in generale il quadro, almeno nel mese d'agosto possiamo dire che si è mantenuto tranquillo, dopo invece alcuni timori e non indifferenti che siano nutriti in primavera e nella prima parte dell'estate. Per quel che riguarda le valute cambia ben poco rispetto a quello che dicevamo la scorsa volta, il dollaro è la sola valuta effettivamente tonica, la sterlina lo è altro tanto, ma lo è questo, ogni tanto c'è un po' di incertezza, così come un po' di incertezza si ha sul destino dello yen giapponese, ma non di certo sulle attenzioni, per il resto l'euro fa solennemente schifo ed è probabilmente la valuta che fa più schifo in questo momento, così come non certo brillano per bellezza le cosiddette valute alternative, dollaro australiano, corona svedeco, corona regese, eccetera eccetera eccetera. L'ofranco svizzero che sembrava potesse migliorare, in realtà torna nella sua apatia negli ultimi tempi, non fa paura ma non fa nemmeno, non suscita alcun entusiasmo. Per quel che riguarda le commodity qualcosa intanto cambia, per la prima volta abbiamo da parte degli investitori sulle commodity in generale una qualche incertezza che non c'è mai stata, è la prima volta che appare dalla quasi fine di giugno, i prodotti di agricoltura stanno ancora bene, l'energia, l'incertezza è già qualcosa di più di un'incertezza, perché è un'incertezza molto preoccupata sull'energia in generale, le granaglie parrebbero riprendersi ma prendiamo tutto con le dovute pinze perché sono due settimane ed è ben poca cosa, i metalli industriali hanno la stessa incertezza che noi vediamo sulle commodity, però non è che possiamo dire di più, i metalli preziosi invece non sono incerti, sono a rischio e l'oro tra questi però sembrerebbe, lo vedete qua, l'oro tra questi sarebbe, sembrerebbe essere quello un po' più appetibile in termini di minor rischio, non perché si possa poi nutrire delle grandi ambizioni. Il petrolio è entrato in difficoltà, quantomeno per quel che riguarda le intenzioni degli operatori, non ancora su quello del destino, staremo a vedere. Direi che per quel che riguarda il destino in realtà l'unico problema vero c'era ancora l'oro, per cui è su questo, fate attenzione perché non vorrei che nelle mie parole fossero l'oro e metalli preziosi, nelle mie parole fossero confuse con adesso è il momento di comprare l'oro, no, non è questo, assolutamente no, semplicemente l'oro oggi rispetto a una settimana fa mostra una criticità meno cattiva, chiamiamola così, ma non per questo è una delle materie prime, per rigolette delle commodity, su cui al momento si possa far confluire i propri quaterni tranquillamente. Con questo praticamente vi saluto, l'appuntamento è per lunedì, classica ora della Fata Verde, buona domenica a tutti e alla prossima.